Parte nel cuore di Forcella, nei locali ristrutturati dell'ex Super Cinema, un nuovo progetto di riqualificazione urbana e di formazione culturale e professionale. Si chiama Percorsi d'Arte e attraverso un bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede un programma di attività laboratoriali e di eventi culturali rivolti ai giovani del quartiere. Destinatari sono 100 ragazzi dai 14 ai 30 anni che avranno la possibilità di seguire gratuitamente per 18 mesi corsi e laboratori sulla fotografia, il teatro e l'informatica. Quest'attività andrà avanti fino a giugno del 2016 con attività di laboratorio, con eventi aperti alla città, con spettacoli teatrali, spettacoli musicali, presentazioni di libri, insieme con tutte le altre attività che invece si faranno in questo posto che sta diventando un vero e proprio centro culturale qui all'interno del quartiere di Forcella. Il progetto, che tra le altre finalità vuole favorire l'aggregazione sociale e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è promosso dal Comune e realizzato dalle associazioni e i teatrini, Centottantesimo Meridiano, Muricena Teatro e Teatri di Seta, che hanno curato le attività. È soprattutto un percorso culturale partecipato, cioè molto condiviso dal territorio, ma non qualcosa che viene calato dall'alto. È un altro obiettivo strategico di questo progetto, da noi fortemente voluto, che è destinato ai giovanissimi e questo è importante perché si avvicina molto il mondo della gioventù della nostra città a tutti i percorsi culturali, dando loro anche delle opportunità di formazione e quindi di lavoro. È previsto inoltre un percorso di socializzazione e conoscenza attraverso l'uso del linguaggio teatrale tra donne di diverse etnie presenti sul territorio.